L'estimismo di destra è stato drammatico per come ha colpito, perché ha usato il tritolo, ma numericamente era molto meno consistente. Il terrorismo di sinistra invece ha attinto ad un serbatoio di reclutamento che erano tutti quelli, ma anche come me, che a 17-18 anni andavamo a scandire fascista basconero, il tuo posto è il cimitero, attento poliziotto arrivata la compagna P38 e a un certo punto qualcuno dopo averlo scandito a varie manifestazioni ha cominciato a farlo.